Sette piccoli di Ibis e Remita sono nate nello zoo di Chester in Inghilterra. La specie è in grave rischio di estinzione e dal 94 nella lista dell'International Union for the Conservation of Nature delle specie più minacciate. Scomparso il 98% della popolazione in natura di questi meravigliosi uccelli, secondo gli esperti al momento esisterebbero ancora 115 coppie in Marocco e Turchia, l'ultimo avvistamento in Siria nel 2014.